Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Eterno il Dio! Che ti compiacesti di sublimare alla gloria celeste, il Beato Giovanni Giuseppe tuo confessore. Conducendolo per le ardue vie della povertà, umiltà e penitenza. Dè! Concedici propizio, che mortificati nella nostra carne, imitar possiamo di Lui esempi, e di godere con Lui la gloria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli! Si è santificato il tuo nome! Venga il tuo regno! Sia fatta la tua volontà! Come in cielo così in terra! Dacci oggi il nostro pane quotidiano! Rimetti a noi i nostri debiti! Come noi li rimettiamo ai nostri debitori! E non ci indurre in tentazione! Ma liberaci dal male! Amen! Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te! Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù! Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte! Amen! Gloria al Padre! Al Figlio! E allo Spirito Santo! Come era nel principio! Ora e sempre! Nei secoli dei secoli! Amen!